ancora davanti a noi che Lui ha operato, soltanto dipende a noi di fare il miracolo, di rimettere in movimento i nostri piedi, non sentirli paralizzati, di metterci in movimento per andare in cerca di Cristo, per avere il suo perdono, per avere il suo amore. La preghiera sulle offerte. Accogli Signore questa offerta, espressione della nostra fede e fa che dia gloria al tuo nome e giovia la salvezza del mondo. Questa offerta, prendete e mangiatene tutte. Quando mettiamo il pane e il vino là sopra, mi hai detto sei tu Signore, ricordiamoci che quella deve essere l'espressione della nostra fede, cioè capire che fra poco quello non sarà più pane, là c'è la presenza di Cristo, è Cristo che sta davanti a te, è quel Cristo che pregata ti viene a cercare, è quel Cristo che vuole entrare nel tuo cuore, nella tua vita, nei tuoi sentimenti, perciò non l'abbandonare, prepara il tuo cuore senza distrazione, la chiesa, senza andarci perché ha già avrei che si fa, senza andarci che ci ha già i, vacci perché veramente quella tua fede ti porta a dire, eccolo, sta venendo, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il prefazio è il primo delle domeniche, è veramente cosa buona e giusta renderti grazie e nazare a te il rinno di benedizione e di lode, di onnipotente ed eterno per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato alla morte e della morte alla gloria di proclamarci, stirpe letta, regale e sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista. Per annunciare al mondo la tua potenza, oh Padre, che dalle tenebre ti hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. L'antifono alla comunione, tutti lo davano Dio per le meraviglie operate a Gesù. La comunione, il pane che ci hai donato Dio in questo ramendo di salvezza, sia per tutti noi un impegno sicuro di vita eterna. Ecco, quella comunione che facciamo è una caparra, è un biglietto che noi acquistiamo per poter guadagnare la vita eterna. Ora, vorrei dire un po' a tutti quelli che si sentono superiori, a tutti quelli che comandano, non prendete sull'occhio chi ha il coraggio di parlarvi e di dire la verità. Ringraziatelo, perché è quella gente che vi aiuta a non sbagliare. Forse la loro esperienza vi può servire. E allora, no, non venite a chiederci quando starete a terra in una bara, aperto e chiuso, non ha importanza. Non vi da chiedici quando starete in quella bara, vieni a pregare, a farti la comunione, vieni a sentirti la messa per l'anima mia. Perché è un giorno in cui non hai avuto compassione di quella persona che stava davanti a te, questa persona non ha compassione di te che stai davanti a lui. E un giorno hai bisogno di tu, delle sue preghiere. Un giorno hai bisogno dei suoi consigli. E come hai rifiutato quei consigli, nel tuo orgoglio hai rifiutato anche queste preghiere di oggi. Perciò ne metti in certe situazioni. Allora, l'ultima poesia, ne ho fatto due, per questa occasione di San Valentino. È intitolata Come un vulcano. È bella la neve candida, distesa come un mando d'amore quando spunta l'aurora. Ma gelite l'aria che accende per te fiammelle d'amore per riscaldarti il cuore. Ed io mi stringo al tuo cuore come fiammella che circonda il tronco per donarti il calore di tutto il mio amore. Oggi purtroppo, come ben presto, la legna si riduce in cenere E la neve è ancora sui mondi, come il gelo che circonda i cuori. Vorrei che il mio cuore fosse come il cuore della terra, dove brucia per sempre tanto fuoco. Per dirti per sempre, ti voglio tanto bene, amore. Com'è bello quando mi parli di amore. Ve la rileggo. È bella la neve candida, distesa come un mando d'amore quando spunta l'aurora. Ma gelite l'aria e accendo per te fiammelle d'amore per riscaldarti il cuore. Ed io mi stringo al tuo cuore come fiammella che circonda il tronco per donarti il calore di tutto il mio amore. Oggi purtroppo, come ben presto, la legna si riduce in cenere E la neve è ancora sui mondi, ma il gelo che circonda i cuori. Vorrei che il mio cuore fosse come il cuore della terra, come uno vulcano. Come il cuore della terra dove brucia per sempre tanto fuoco. Per dirti per sempre, ti voglio tanto bene, amore. Com'è bello quando mi parli di amore. Cari amici, è bello quando varchiamo quella soglia di una chiesa e lì troviamo un calice, troviamo un apisside dove c'è un'ostia che ci parla di amore. E' lì che sentiamo tutto il calore di chi, guidato dall'amore, ha mosso i suoi passi verso di noi. I suoi passi svelti, non paralizzati, per cercare il nostro cuore. E dalla croce ci ha parlato ancora di amore e di perdono. Incomincia la Santa Quaresima, incomincia il periodo in cui noi facciamo l'astinenza della carne al venerdì. ricordate che il mercoledì delle ceneri, cioè il giorno dopo il carnevale, c'è astinenza e digiuno. E logicamente cerchiamo sempre di tenere davanti a noi questi giorni di penitenza che ci raccolgono davanti a Dio. Non dite, ma io sono il peccato di gettare la bella pulpetta, non peccate quando gettate ancora, cari amici, fatene di meno, ovviamente di un frigorifero stesso che potete conservare, però conservate l'amore di Dio e la sua benedizione. Quella benedizione che auguro a tutti quanti voi, che scenda sempre il propizio sulle vostre famiglie, che accenda fiamme d'amore per tutti quanti voi, e che il Signore vi stringa tutto nel suo cuore per proteggervi e pedirvi sempre vi voglio tanto e tanto bene. E la benedizione di Dio Nipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discendere su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Buonasera a tutti, bello voglio guardare, vi posso voler sempre bene a tutti quanti. Ciao, arrivederci alla prossima volta, se essi ci dà la forza e la salute. Ciao.